Il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Filippo Scola, qui a questa festa meravigliosa. Beh, ragazzi deliziosi, i Rebattabuse sono veramente una realtà che rende anche vivo e vivace il territorio. Rebattabuse, 11 anni di storia, ragazzi impagabili, grandissimi lavoratori, quello che danno al paese, quello che riescono a dare ogni anno, ci sorprendono sempre di più. Dobbiamo cercare noi politici di dare a loro più spazio e chiedere sempre di più, cioè dar noi qualche contributo in più a loro per poter fare e creare questi eventi che sono legati sostanzialmente alla solidarietà verso il prossimo. E quindi congratulazioni a loro, solo a loro, solo a loro volontariato, al bene che vogliono dal territorio.